Buongiorno signori, io sono Mr. Lul e ci siamo. Oggi parliamo di pagamento pensioni settembre anticipato o no e soprattutto di quattordicesima pensioni che arriva proprio a... iniziamo! E altro che essere o non essere, nei commenti già da alcuni giorni impazza questa domanda. Ma anche a settembre le pensioni saranno anticipate? Allora, ovvio che ad oggi non si può dire con certezza se saranno pagate normalmente il primo settembre o se per le poste assisteremo ancora ad un balletto con anticipo e scaglionamento all'ultimo secondo come per agosto. Quindi in attesa di ricevere informazioni di prima mano dai miei informatori sotto copertura, magari proprio un bel calendario in anteprima assoluta come lo scorso mese, vi dico la mia. Con la proroga dello stato di emergenza mi aspetto anticipo e scaglionamento come gli scorsi mesi. Il fine ultimo di questa modalità è infatti evitare assembramenti e rischi di contagio durante l'emergenza. Siamo in emergenza, almeno formalmente, quindi presumo che la protezione civile farà anche questa volta una bella ordinanza ad hoc. Attenzione però, questo è un mio pensiero, quando avrò le prove provate ovviamente faremo una bella live. Passiamo alla quattordicesima. In tanti, pur avendone diritto, non l'avete ricevuta a luglio. Bene, l'altra finestra disponibile è proprio la mensilità di settembre. L'Inps infatti, prima di erogare automaticamente la mensilità aggiuntiva, effettua controlli sui redditi che possono portare a questo tipo di slittamento. Se non avete idea dei requisiti per beneficiare della quattordicesima, beh, ho fatto diversi video che vi metto in descrizione. Ah, over 75, ricordatevi che potete sempre delegare i carabinieri al ritiro della vostra pensione in poste. Detto questo, non vedo l'ora di avere gustosi aggiornamenti. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.